Sono una decina i soggetti che hanno avanzato manifestazioni di interesse per l'acquisto delle quattro good bank, nate dal decreto governativo dello scorso novembre. Tra i potenziali acquirenti, per lo più stranieri, ci sono banche e compagnie di assicurazione, in prevalenza fondi di private equity. I nomi saranno resi noti entro 15 giorni. A dirlo è Roberto Nicastro, presidente dei quattro istituti, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nelle prossime due settimane arriveremo a definire la short list, spiega, che vi farà parte e avrà accesso alla data room, in modo da poter pienamente valutare lo stato delle quattro nuove banche e formulare entro luglio un'offerta vincolante. A quel punto ci sarà il tempo per le negoziazioni e per chiudere le cessioni entro il 30 settembre. E specifica non ci saranno ulteriori deroghe temporali. Nicastro non commenta le voci secondo cui non ci sia stata una manifestazione di interesse da parte di Ubi, né sulla potenziale offerta della Popolare di Bari per carichieti. L'unica cosa certa è che a decidere, sentita la Commissione UE, sarà l'azionista delle Good Bank, ovvero Banca Italia, basandosi sulla relazione di Nicastro. Nell'intervista il presidente ribadisce che sarebbe più facile e veloce procedere ad una sola trattativa di vendita, ma la cessione a pacchetto unico non è così scontata. Io devo vendere alle migliori condizioni nel rispetto dei tempi, sottolinea Nicastro. Il rischio maggiore? Che la vendita non vada a buon fine. I poteri decisionali che abitualmente sono in capo allo Stato, spiega il presidente, in questo caso sono stati trasferiti a Bruxelles e a Francoforte. Non c'è permesso di non ottemperare agli obblighi. Se il 30 settembre le banche non saranno state cedute, si tornerà con un automatismo già previsto al 21 novembre 2015. In altre parole, si attiverà la tanto temuta procedura di bail-in. Una prospettiva non così lontana, considerata la lentezza dei tempi di vendita. Ma la situazione era complessa, replica Nicastro, e in Italia ci sono altre 6 o 7 banche in vendita, senza considerare la crisi dell'industria del credito. Ma io sono ottimista, commenta, credo arriveremo presto e bene ad una soluzione per tutte e quattro le banche. Quanto ai risparmiatori truffati, Nicastro ricorda di aver presentato una richiesta per 480 milioni verso 76 ex dirigenti delle vecchie Cari Ferrara e Banca delle Marche. Contro le vecchie gestioni di Cari Chieti, Banca Etruri e commissari stanno formulando richieste simili, ricorda e aggiunge, sarebbe bello che il ricavato aumentasse le risorse per i risparmiatori.